Tariffe dedicate agli associati Confagricoltura che prevedano condizioni vantaggiose. È questa la base dell'accordo siglato questa mattina tra l'Associazione ed ASM7, la società polesana di servizi energetici. Una convenzione che agevole gli associati Confagricoltura sia per quanto riguarda le forniture all'impresa che quelle domestiche. Ringrazio il presidente di Confagricoltura Stefano Casalini e il direttore Massimo Chiarelli, ha esordito il presidente di ASM7, dottoressa Manuela Nissotti. Questo accordo conferma ancora una volta la volontà dell'azienda di agevolare imprese e famiglie del nostro territorio. Inoltre permetterà di promuovere i nostri prodotti e servizi, del cui valore ed efficienza siamo certi, viste le numerose conferme e la fiducia che quotidianamente ci rinnovano i nostri oltre 41.000 clienti. Le offerte, oggetto dell'intesa, sono dedicate sia alle forniture ad uso domestico che alle partite IVA. Ci saranno tariffe con agevolazioni dedicate sia per i contratti gas che per quanto riguarda l'energia elettrica, ha spiegato il direttore generale di ASM7 Massimo Nicoli. Ma oltre all'aspetto commerciale, c'è anche la disponibilità di ASM7 di illustrare la maniera corretta di leggere le fatture, organizzare momenti di confronto per capire come orientarsi al meglio nel libero mercato, soprattutto in un momento di difficile passaggio per i clienti dal mercato tutelato e come tutelarsi da eventuali truffe o cambi di fornitore non richiesti. Gli associati di Confagricoltura potranno rivolgersi ai 5 sportelli clienti di ASM7, Rovigo, Adria, Occhiobello, Lendinara e Castelnuovo Bariano. Inoltre potranno ottenere informazioni rispetto a questa convenzione anche agli sportelli di Confagricoltura, vista la sinergia tra le due aziende. La presidente di ASM7, Manuela Nissotti, affiancata dall'amministratore delegato Filippo Boraso, ha ricordato come questa sia l'ennesima conferma della capacità di ASM7 di lavorare in accordo con le realtà del territorio.